Sorpresi in flagranza di reato, due pregiudicati di Sant'Agata Militello sono stati fermati mentre catturavano illecitamente alcuni cardellini, una specie di uccello particolarmente protetta poiché a rischio estinzione. Il blitz che ha permesso di scovare i due bracconieri è stato eseguito in territorio di Torrenova sul greto del torrente Rosmarino dagli agenti del commissariato di pulizia di Sant'Agata Militello e dalle guardie venatori e zoofile dell'ente produttore di selvaggine della Sicilia. I due sono stati denunciati per cattura, maltrattamento, detenzione e uccisione di cardellini. Ai due denunciati è stato quindi contestato anche l'utilizzo di richiami vivi. Gli agenti e le guardie venatori e zoofile a seguito di un servizio di appostamento hanno sorpreso i due pregiudicati che avevano piazzato sette archetti, un arcaico sistema di trappola a scatto con cappio che causa atroci sofferenze agli animali dovute alle amputazioni delle zampe. Le trappole erano poste vicino ad una gabbia con all'interno un cardellino che fungeva da richiamo anch'esso con la zampa amputata probabilmente a seguito di una precedente cattura. Nel greto del torrente è stato trovato anche un cardellino morto appena ucciso a seguito della cattura proprio con l'archetto. Tutte le attrezzature rinvenute sono state poste sotto sequestro. Successivamente, a seguito di una perquisizione presso l'abitazione di uno dei due, sono stati trovati altri tre cardellini appena nati e detenuti in condizioni di maltrattamento. I due cardellini utilizzati come richiami vivi sono stati quindi rimessi in libertà, mentre i tre pulcini sono stati affidati al centro recupero fauna selvatica di Messina per la riabilitazione e la successiva rimessa in libertà. Secondo gli inquirenti, il fenomeno della cattura illegale dei cardellini è molto diffuso anche sui nebrodi e dietro questa pratica ci sarebbe una florida attività illecita alimentata da un vasto interesse economico legato alla vendita degli esemplari acquistati per il loro canto.